Ciao Eugenio, Fabrizio Vitale, la Gazzetta dello Sport. Senti, in settimana si è parlato molto di te, del tuo presunto disagio a dover affrontare questa partita, le tue crisi di coscienza e di colpe. Vorrei capire se ti senti a disagio e perché. Grazie. Ma guarda, io penso che un uomo, una persona, ha un'anima, vive di sentimenti, di emozioni e quelle rimangono a prescindere. Poi ci sono delle responsabilità, sono per fortuna un professionista del calcio e di conseguenza ho un obiettivo ben chiaro che è quello di far rendere al meglio la mia squadra. Abbiamo l'orgoglio alla 38esima giornata di essere ottavi e dunque vorrebbe dire avere la possibilità di fare il playoff. L'abbiamo spinta due mesi e mezzo fa, nonostante potessi venire qui da voi e continuare con la cantilena del consolidamento della categoria. Mi sono assunto la responsabilità. Oggi posso dire con orgoglio che saremmo dentro, ma manca un pezzo e di conseguenza questo pezzo bisogna andare a chiuderlo domani sera. Sapevo che Palermo avrebbe risposto come sta rispondendo, riempiendo lo stadio e questo è uno stimolo straordinario. L'abbiamo meritato tutti con un atteggiamento importante, rimanendo dentro un campionato veramente complicato, complesso, difficile e dunque l'unico grande obiettivo, la volontà che abbiamo è quella di chiudere al meglio questo campionato raggiungendo un obiettivo che non era preventivato ma che però abbiamo coltivato. L'abbiamo fatto insieme, rimanendo dentro qualche difficoltà, andando oltre qualche limite e domani abbiamo una grande occasione. Ho parlato di finale al termine della partita di Cagliari. Questa è veramente una finale che ci può portare di là e ci preparerà eventualmente quella successiva perché sarà un'altra partita simile che abbiamo tanta voglia di poter giocare. Sì, volevo aggiungere, hai parlato di finale, può essere un test da vivere di avvicinamento in chiave play-off visto che c'è un risultato solo e se dovesse andare tutto come tutti ci auguriamo ci sarebbe un risultato solo la prossima partita. Sì, sì, no, proprio facevo riferimento a questo nel risponderti alla domanda precedente che oggettivamente sarebbe importante approcciarla al meglio, vincerla, perché sarebbe la stessa partita che dovremmo giocare una settimana dopo e di conseguenza queste finali si giocano con grande lucidità, con l'atteggiamento corretto, rimanendo dentro la partita, saperla leggere, saperla spostare l'inerzia dalla tua parte quando ti è possibile, reggere l'urto quando l'avversario ti dà qualche difficoltà. Avremo bisogno dei nostri tifosi che ci hanno sempre spinto. Io spesso con voi ho detto che durante la partita sono sempre stati straordinari e penso che domani, lo chiedo veramente, devono esserlo ancora di più perché non sottolineare un errore a un momento di difficoltà è quel momento che questi ragazzi sono meditati il calore, la spinta e di questo abbiamo bisogno di loro. Spesso con voi ho parlato della parola insieme e domani dobbiamo essere forti insieme perché affrontiamo una squadra di valore che è un obiettivo importante da raggiungere e dunque insieme siamo più forti e quando l'abbiamo fatto in casa è stata dura per tanti avversari. Ciao Eugenio, buonasera. Bocca al Lupo, Paolo Vanini del Corriere dello Sport ti prendo una frase che tu hai detto molte volte durante quest'anno perché mi pare che si adatti perfettamente a questa partita le cose si costruiscono nel tempo ma bisogna anche avere visione del futuro più che mai direi che il tipo di partita che comunque la metti la devi saper vincere perché la capacità di una squadra che è quella a cui tu hai guardato la crescita di una squadra che è quella a cui tu hai guardato per tutta la stagione si misura sulla sua concretezza e concentrazione nei momenti decisivi quindi è il momento forse di trarre tutto il risultato del lavoro che hai costruito nel corso dell'anno è così, la vedi così oppure semplicemente una finale e quello che succede succede? Io penso che abbiamo posto le fondamenta per radicare un'identità e uno spirito che stiamo costruendo che nasce dal cambio societario che nasce da un cambio totale dei giocatori spesso con voi ho parlato di 20 giocatori di movimento nuovi che sono arrivati io penso che radicare un'identità c'è bisogno di tempo io leggo e vedo il seme che abbiamo trasmesso e mi sento rispetto magari a qualche esperienza passata e anche una visione diversa di essere dentro un processo perché la società, la proprietà, la direzione tecnica mi fa sentire dentro un processo e dunque è una visione ampia, diversa e oggi dico determinate cose perché due mesi e mezzo fa io in prima persona so cosa vuol dire lavorare Palermo e so cosa vuol dire rappresentare questa società e quando ho spinto l'obiettivo è perché è uno stimolo che volevo dare a tutti perché rappresentare Palermo è sicuramente un orgoglio sicuramente presenta delle difficoltà ma presenta anche che quando fai delle cose fatte bene hai 30.000 persone che ti fanno per te vivi delle esperienze meravigliose vuol dire assumersi delle responsabilità c'è una visione sul futuro ma c'è un grande obiettivo da cogliere e quando i processi si possono accelerare e le occasioni si sono create è giusto andare a cogliere dunque domani abbiamo il focus su un obiettivo che è lì che oggi ci vedrebbe dentro ma che manca un pezzo come vi ho detto e che abbiamo la piena consapevolezza che probabilmente serve solo la vittoria per accedervi un po' erigio genio sono qui volevo chiedere rispetto a una partita così importante dove il peso nelle gambe sarà forte davanti le gambe peseranno davanti a un pubblico 30.000 non sappiamo ancora cosa vi siete detti per evitare di farvi prendere non so anche dal peso di questa partita la fresia con i giocatori prima della partita c'è qualcosa un rituale o qualcosa che avete fatto ecco mi interessava questo e poi vabbè prego no 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 va bene nel senso che spesso si dice bisogna arrivarci con tranquillità bisogna arrivarci nel modo giusto io questa settimana ho alzato anche i toni e ho spinto perché io penso che certe cose vadano allenate non puoi pensare di vivere una settimana serena e poi ti trovi davanti 30.000 persone fra virgolette e hai qualche difficoltà dunque ho lavorato sull'aspetto mentale e motivazionale sicuramente l'aspetto tattico ti aiuta a essere organizzato e dunque a sapere bene cosa devi fare siccome giochiamo a calcio in udici è un aspetto fondamentale ma l'altra parte è altrettanto fondamentale su questo lavorato dal puntista proprio dell'equilibrio mentale dalla spinta motivazionale proprio oggi parlavo ai miei giocatori e spesso ne parlo con voi perché è importante che capite anche la comunicazione che sviluppo con i miei giocatori per fargli capire certi principi e certe idee ho fatto l'esempio ho chiesto a loro cosa avevano visto ieri di una partita penso che abbiamo visto tutti del Manchester City con Real Madrid ed è stato importante sentire anche la loro opinione di cosa hanno visto e io mi ricordo che proprio l'anno scorso quando linavo il Brescia prima di una partita parlai di Real Madrid-City che fu una partita dove oggettivamente il City giocò una partita straordinaria passò in vantaggio ebbe un paio di occasioni dure per consolidare il vantaggio che probabilmente li avrebbe portati a giocarsi la finale il Real Madrid in quello stadio con una capacità proprio di giocatori straordinari riuscì a cambiare l'inerzia e addirittura a vincere quella partita ma sul 1-0 rischiò veramente l'osso del col e ho fatto l'esempio del primo tempo di ieri io penso che i giocatori del Real non sto parlando di organizzazione generale di qualità del gioco sto parlando di empatia di equilibrio mentale e di forza io penso che ieri i giocatori del Real rispetto all'anno scorso in un primo tempo di sofferenza non avevano quella rabbia quella cattiveria per prendere la palla e riportarla di là tutti insieme si sono un po' isolati e non sono stati squadra ecco io penso che se il focus è quello se la difficoltà la reggiamo insieme se abbiamo la capacità di stare uniti e spesso quest'anno l'abbiamo fatto nonostante abbiamo passato anche periodi complicati questa è la forza che dobbiamo mettere in campo domani e questo è quello che riconosce il pubblico che poi ti spinge ad aiutarti ti spinge a fare qualcosa in più su questa unità su questa unione ho lavorato tanto e domani la voglio vedere in campo è una partita complicata difficile ma io penso che se abbiamo creato una consapevolezza e abbiamo le armi corrette e giuste per andare a giocarci questa gara Buon pomeriggio Mister Massimiliano Radicini giornale di Sicilia Eital Press volevo chiederle quanto pesa l'assenza di Marconi e poi quanto è importante questa partita cioè quanto cambia la visione del campionato fatto la partita con il Brescia guarda questa è la domanda trappola e di conseguenza Ivan Marconi è stato un giocatore molto importante per noi lo è stato anche Davide perché tra l'altro è stato anche penalizzato da tre infortuni che secondo me gli hanno tolto un po' di continuità ma ha recuperato bene l'avete già visto in un paio di spezzoni nelle partite precedenti e dunque lo vedo pronto a sostituire Ivan e lo farà sicuramente dando il meglio io penso che quello che ho detto prima è molto chiaro nel senso che se avete voglia di leggere la complessità del campionato se avete voglia di capire chi ci è rimasto sotto se avete voglia di capire cosa è successo nelle ultime dieci giornate di che club e di che budget avevano le squadre che erano dietro di noi di perché è diventato così equilibrato questo campionato del perché tanti pareggi ci hanno portato oggi essere ottavi l'avete lì dovete solo avere voglia di guardarla e capirla poi dopo c'è chi ha voglia chi non ha voglia di consenso io oggi vedo il focus che siamo ottavi e che abbiamo alla 37esima giornata siamo arrivati lì e che manca la chicca finale che è quella di provare a vincere domani la partita che ci porterebbe là e di conseguenza la valutazione globale per me è molto positiva sulla stagione abbiamo la possibilità di spostarla ancora più in là di andare oltre i limiti le difficoltà e di capire cosa può succedere se dovessimo avere la bravura di arrivare nei playoff abbiamo una grande curiosità di arrivarci per vedere cosa saremo capaci di fare se andremo di là ciao Eugenio un'agenzia Anza Valerio Tripi due cose la prima da Cagliari forse l'unico che è tornato con qualche punto è Nedel Cearo ti chiedo come l'hai visto se gli dà fastidio se è tutto chiuso da questo punto di vista e la seconda dalla fotogalleri sul sito del Palermo mi è sembrato di vedere che ieri sia venuto al campo il presidente Mirri se è venuto da tifoso se vi ha detto qualcosa se avete scherzato su questa passione che lui da tifoso e da presidente ha dentro di sé grazie allora Nede è un ragazzo tosto di riconoscenza l'abbiamo gestito un paio di giorni solo per non sollecitare il taglio importante che si è fatto dunque diciamo che si è allenato completamente completamente a disposizione colpito di testa dunque è pienamente recuperato ci ha fatto piacere sicuramente ricevere la visita al campo ieri del presidente Mirri è venuto anche a cena perché ieri abbiamo fatto non un ritiro ma comunque ci siamo ritrovati per la cena ed è stato presente anche lui ha fatto sentire tutta la sua vicinanza e il suo affetto e sappiamo quanto tiene alla nostra squadra mi ha fatto piacere questa mattina ricevere una bellissima mail di Brian Marwood che è il direttore tecnico dove stimolato anche da quello che è successo ieri sera diceva che anche noi avremo 30.000 persone che ci spingeranno avremo un clima importante abbiamo un grande obiettivo che non era preventivato da poter cogliere dunque ha dimostrato tutta la sua vicinanza e il suo affetto e l'ha portato anche a nome di tutta la proprietà Bigon che ieri comunque era a Manchester a vedere la partita oggi era qua a vedere l'allenamento assisterà alla partita questo fa capire insomma che unione c'è che volontà c'è e quanto il Palermo sia importante per gli City Group e questo secondo me è un aspetto fondamentale che ci dà una grande energia e noi vogliamo ripagare questa fiducia portando a casa domani un grande risultato Buon pomeriggio consapevolezza di partire da underdog un po' come il Palermo di Baldini anche se in un contesto in una categoria totalmente diversa possa fungere da grande stimolo sul piano motivazionale una ragione così è un perdente io penso che quando la palla rotola può succedere di tutto e la mentalità vada costruita certo va rapportata con le forze ma io penso che l'obiettivo primario domani è vincere la partita che ci porterà di là e se andremo di là daremo il meglio ci giocheremo le nostre possibilità io anche nelle partite che abbiamo perso col Parma che abbiamo perso col Cagliari che abbiamo pareggiato col Sud Tirol che abbiamo vinto col Bari e di conseguenza penso che questa squadra se la sia sempre giocata con tutti e io sono proprio curioso di capire cosa può succedere quando andremo di là e di conseguenza se succederà e saremo bravi a farlo ci giocheremo le nostre chance al meglio Guido Monastra Stadio News ciao Eugenio due cose la prima era una curiosità se nel tuo percorso motivazionale alla partita di domani hai fatto vedere anche magari delle immagini dello scorso anno perché non soltanto lo stadio ma lo scorso anno tu forse l'hai vissuto da lontano un po' tutta la città si era inebriata di questo improvviso playoff con conseguente entusiasmo e via dicendo quindi non so se avete fatto vedere i filmati anche perché è rimasto poco di quella squadra là quindi diciamo non ne avete parlato sono arrivati sono rimasti i giocatori importanti perché sono rimasti i giocatori che sono stati fondamentali per l'anno scorso che trasferiscono l'idea noi quest'anno abbiamo già giocato di fronte a 28.000 dunque anche la mia squadra si è meritata uno stadio quasi pieno domani se lo merita ulteriormente migliorato rispetto a quello che abbiamo creato con il Frosinone questi giocatori sanno cosa vuol dire rappresentare il Palermo e quello dal punto di vista motivazionale su cui ho lavorato sono dei principi che per me sono fondamentali sapere cosa vuol dire rappresentare il Palermo e giocare qua i miei ragazzi lo conoscono che non è soltanto lo stadio ma un po' tutta la città perché tu respirando la città capisci l'entusiasmo che si è generato la domanda vera era quella su Verre allora Verre secondo me doveva essere la ciliegina sulla torta che stava andando bene ha fatto bene all'inizio e mi pare che sia fuori luogo discutere la capacità tecnica del giocatore che fino a pochi mesi fa ha fatto la Serie A però la domanda è tutto è cambiato dopo un'assenza per un'influenza tu alcune volte hai giustificato anche proprio con l'influenza una mancata situazione fisica brillante ora però è passato molto tempo ha avuto più di un'influenza c'è stato qualche cosa di particolare o magari anche il suo inserimento è un po' più problematico dal punto di vista tattico perché nelle ultime partite è stato quasi sempre il tuo primo cambio e non è stato il valore aggiunto io penso che abbia fatto partite importanti con voi l'ho detto e sicuramente ne ha avute due di influenze che l'hanno penalizzato un paio di settimane dopo che aveva già avuto quella per la gastrointerite l'hanno debilitato tanto di conseguenza ha avuto bisogno di un periodo di adattamento di sotto si riparte in un certo modo ma per stabilizzare la condizione ci vuole un periodo un po' più lungo io penso che con la spalla abbia fatto una partita importante soprattutto nel primo tempo sulla durata secondo me stiamo migliorando perché già a Como giocò 75 minuti ma di conseguenza io penso che quei cinque cambi è un dovere dell'allenatore poi tenere alto quel livello lì leggere la partita sta crescendo magari a Cagliari non è stato qualitativo come lo è stato con la Spal ma un giocatore sicuramente in crescita certi giocatori bisogna dar fiducia bisogna metterli in campo perché hanno l'attitudine insomma a trovare soluzioni a trovare giocate di qualità e su Valerio secondo me ci credo ci punto e poi la lettura dentro la partita e quei cinque cambi è sempre quello di tenere alto il livello di intensità giochiamo con due punte e di conseguenza stabilizzare la squadra è anche un obiettivo importante rispetto al fatto che quando l'ho spostato in maniera un pochino più offensiva qualcosa abbiamo pagato dietro e di conseguenza le letture sono sulla variabilità tattica che possiamo dare ma anche su un equilibrio generale che secondo me è fondamentale per poi fare il risultato a chiudere Capone Pelliteri Camuca e Bagnini Buon pomeriggio Eugenio Marco Capone Palermo Today torno brevemente sull'aspetto mentale tu dopo la partita contro il Benevento ci avevi detto insomma di aver notato un po' di frenesia pressione ti chiedo nel tuo piano partita diciamo la preoccupazione di dover eventualmente sbloccare il risultato quanto conta visto che insomma la componente sarà fondamentale e poi come è andata la settimana di Saric che insomma era rientrato però non l'abbiamo visto in campo io penso che vogliamo dare ritmo alla partita la vogliamo sempre fare cerchiamo di farlo in casa cerchiamo di farlo fuori casa a volte l'avversario te lo permette a volte un po' meno col Benevento c'era proprio il peso specifico di una partita che sentivamo di dover vincere e che più andava avanti i minuti più siamo andati siamo stati frenetici e questo ha tolto sicuramente un po' di qualità le giocate ma era una partita che comunque avevamo vinto e spesso si vincono partite di questo tipo e di conseguenza questo come dicevo prima essere organizzati essere lucidi leggere la partita potrà succedere che magari avremo anche un momento di difficoltà ma dobbiamo rimanere solidi perché poi quando la palla la mettiamo a terra sappiamo bene cosa dobbiamo fare come si muove il compagno e questo deve essere secondo me un aspetto fondamentale Dario era rientrato la settimana scorsa un paio di allenamenti prima di andare a Cagliari già l'ho fatto scaldare a Cagliari poi la partita mi si è messa in un modo e non l'ho utilizzato ma questa settimana l'ho visto molto bene anche oggi è fatto un grande allenamento di conseguenza lo vedo pienamente recuperato abbiamo un'arma in più a disposizione Buon pomeriggio mister Cettina Pellitteri RTA Zurra News le volevo chiedere che Brescia si aspetta e un pensiero su Castaldello e una piccola curiosità perché siamo quasi alla fine del campionato tempo un po' di bilanci e di rimpianti quale partita rigiocherebbe? Allora il Brescia è una squadra che ha ritrovato risultati ha ritrovato efficacia perché nelle ultime sei partite ha fatto 11 punti e dunque sembrava in grande difficoltà invece si è ripresa e di conseguenza troviamo un avversario sicuramente in salute e l'ultima partita che hanno perso è stata col Parma fuori casa e il Parma nell'ultimo periodo praticamente ha battuto tutti a parte sia stato recuperato dal Benevento negli ultimi minuti di partita e dunque troviamo una squadra che ha qualità l'aveva dimostrato anche in inizio del campionato quando era nelle prime posizioni e certifica insomma la difficoltà che abbiamo affrontato tutti i club in questo campionato ultracompetitivo e molto equilibrato Castaldello per me è stato un giocatore molto importante l'anno che abbiamo vinto il campionato era il mio capitano ho fatto una scelta tecnica dopo poche partite privilegiando Cistana ha avuto un comportamento irreprensibile si è allenato sempre alla grande ha spinto ed è stato per me determinante proprio perché ha simboleggiato cosa vuol dire sentirsi la squadra anche se non era più un protagonista principale ma quando è stato chiamato in causa per giocare a titolare per qualche assenza o in qualche aspezione di partita è stato fondamentale di questo lo ringrazierò sempre l'altra domanda scusa non me la ricordo quella di domani mi piace giocare l'abbiamo costruita ci siamo arrivati tra cose fatte bene alcune fatte meno bene quello ormai è passato e bisogna pensare a quelle che affronteremo domani che è molto importante Salve Minister Francesco Camuca Sportisiri di qua visto e considerato che si giocheranno tutte le partite in contemporanea e ci saranno tanti cambiamenti di risultati che possono coinvolgere il Palermo non c'è il rischio che la squadra possa anche essere un po' distratta e di conseguenza perché no nervosa e di fronte trovarsi un avversario nervoso quindi prepararsi ad una gara in cui la tensione prevalga su quelli che sono i piani studiati in settimana grazie è un po' articolata la domanda ma il principio è che noi giocheremo per vincere a prescindere da quello che succede intorno e dunque la nostra totale concentrazione è cercare di vincere la partita e provarci fino al 95esimo e poi alla fine vedremo quale sarà la classifica sapendo che se vinciamo non dobbiamo guardare niente nessuno ma durante la partita sicuramente non saremo distratti da risultati che provengono da campi avversari se non la totale concentrazione a fare al meglio la nostra partita e cercare di vincere vorrei tornare su Gastaldello il fatto che tu lo conosca bene anche se adesso ha un ruolo ovviamente diverso da quello allenatore ti permette di capire meglio come potrebbe essere la partita di domani conosci anche se da poco ha cominciato a fare allenatore la sua idea di calcio oppure questa partita sfugge completamente essendo uno spareggio a qualunque tipo di scelta tattica è anche il fatto che molti giocatori del Brescia li conosci bene sai magari come prenderli o come magari dove fermarli meglio 12 partite comunque sono significative per capire un'idea di calcio e devo dire che ha sviluppato ha alternato qualche sistema nel senso che i tre offensivi a volte li ha tenuti aperti a volte li ha tenuti due tre quarti sotto una punta a volte utilizza un trequartista con due punte dunque l'idea di gioco è riconoscibile e dunque come vi ho detto prima nelle ultime sei partite hanno fatto 11 punti dunque ha portato anche efficacia in termini di risultati sicuramente conosco tanti giocatori perché tra l'altro con gli acquisti che hanno fatto da Lecce conosco anche i tre ragazzi che arrivano da Lecce e ho una grande riconoscenza dei loro confronti perché li ho allenati molto volentieri li conosco lo spessore umano a parte le qualità calcistiche e di conseguenza da questo punto di vista conosco bene anche le loro attitudini tecnico-tattiche le loro capacità e cercheremo di prenderci qualche vantaggio dove pensiamo di potercelo prendere grazie grazie